Oggi chiaramente stiamo parlando di precauzioni perché non c'è nulla di concreto e certo neanche rispetto al fatto che questa variante bucherebbe il vaccino. Siamo in allerta, c'è stato un incontro ieri sera tra le regioni e la parte tecnica del Ministero, ci hanno chiesto di essere molto attenti, di capire se ci sono casi e sequenziare subito. Noi abbiamo già preso contatto con l'Istituto Zoo Profilattico per effettivamente essere tempestivi qualora ci dovessero essere dei casi o delle situazioni che noi riteniamo sospette. L'Istituto Zoo Profilattico di Legnaro conferma che in Veneto non è stata ancora trovata la variante Omicron, ma la macchina per dare la caccia a isolare eventuali casi è già pronta. La speranza è che la temuta mutazione sudafricana definita dall'OMS la peggiore finora vista non appaia nel nostro territorio, ma il fatto che sia già sbarcata in Europa, in Belgio e Gran Bretagna non fa dormire sonni tranquilli. I genetisti dello Zoo Profilattico lavorano dapprima con test rapidi che permettono un primo screening sui camponi risultati positivi ai molecolari, poi si cerca l'eventuale conferma con il sequenziamento del genoma. Secondo gli esperti solo la valutazione sul campo potrà dire se gli attuali vaccini proteggono da quest'ultima variante come è stato per quelle precedenti. L'unica certezza in Veneto è il contagio inarrestabile che caratterizza la regione in queste settimane. Anche oggi siamo a 2.100 positivi, abbiamo aggiunto posti in più sia in terapia intensiva che in area non critica, mi sembra 90 in terapia intensiva e 488 in area non critica. Quindi i numeri salgono giorno dopo giorno. Questo ci deve far riflettere, ci preoccupa e quindi attenzione massima perché il virus sta circolando e chiaramente scenari di zona gialla o zona di altre colorazioni potrebbero interessare anche il Veneto. Resta oltre alle precauzioni la sola arma del vaccino. L'accelerazione programmata è cruciale. Abbiamo già al momento, dicevamo stamattina, un incontro di 1.400.000 prenotazioni per quanto riguarda terze dosi e quindi insomma un numero molto importante. Le USL stanno aggiungendo slot, stiamo aumentando le linee, stiamo aumentando il personale proprio per arrivare ai 50.000 vaccini giorni come nei momenti di massima perché abbiamo capito che metterci in protezione rimane la nostra unica e l'arma fondamentale che noi abbiamo. Grazie a tutti.